L'associazione Open Police, come ogni anno, ha stilato la classifica sulla produttività dei parlamentari. Come indica lo stesso nome, l'associazione fa riferimento alle antiche polis greche, città-stato autonome e indipendenti in cui ogni abitante partecipa alla vita collettiva e alla costruzione del bene comune. Questa governance per i membri della comunità, che opera per la maggior parte virtualmente, forma la più antica e più pura democrazia. I risultati dello studio si basano sulle presenze, sull'iter dei provvedimenti e sul loro consenso. Il senatore molisano Roberto Ruta, per Open Police, porterebbe il primato in ambito regionale in merito agli indici precedentemente menzionati e si posiziona al 174esimo posto della classifica generale, seguito da Ulisse Di Giacomo, al 297esimo posto. Tarsa posizione del podio poi a Laura Venitelli, che si classifica al 325esimo posto della classifica regionale. Al 498esimo Danilo Leva, con un indice del 75,07%.